Tante novità, iniziamo a dire che siamo ben 43 cori, di cui 17 da fuori regione, quindi davvero come ogni anno si ripete questa grande festa del Salerno Festival con tantissimi cori che vengono da ogni parte d'Italia, quindi davvero un momento molto bello di musica e di condivisione. È davvero una gioia vedere tante persone che vengono a visitare la nostra città, il nostro territorio, la nostra regione, persone che vengono da tutte le regioni d'Italia, quest'anno oltre 1300 sono i cantori, quindi davvero un momento di bella musica, di festa, di gioia da condividere con tante corali nazionali. Ne approfitto anche per anticipare e per ricordare che dal prossimo anno questo festival diventerà internazionale, quindi davvero ampliamo sempre più lo spazio e la visibilità della nostra città, della nostra regione e della nostra Italia. Vogliamo ricordare dove si svolgerà, dove si esibiranno queste cose? Certo, con piacere. Allora il fulcro del festival è Salerno, però ovviamente non è solo la nostra città che è coinvolta, molte le città anche della costiera amalfitana, saremo a Vietri, saremo ad Atrani, saremo ad Amalfi. A Salerno vi sarà, oltre che tante sedi istituzionali, si canterà al Teatro Agusteo, si canterà nel Dumo e in tante bellissime chiese della nostra città. In più saremo a Napoli, saremo ad Agropoli, quindi davvero tutta la regione è coinvolta in questa bellissima settimana musicale.